Per le modalità di esecuzione per lo spessore criminale dei soggetti coinvolti è verosimile ritenere che quanto accaduto debba essere collocato all'interno di un disegno meno ristretto di quello che attualmente appare per l'eventuale coinvolgimento da accertare di altri soggetti e di ulteriori ambiti criminosi. La polizia di Gela è proprio su questo che sta lavorando alla cremente da domenica scorsa per chiarire in ogni minimo particolare cosa si nasconde dietro al gravissimo fatto di sangue che si è verificato in via Trieste, angolo Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri da Piazza Martiri della Libertà. Uno giovane 32enne del luogo, Gaetano Marino, con precedenti penali per associazione mafiosa e traffico di droga, è stato raggiunto da un colpo di pistola calibro 7,65 mentre stava passeggiando con la propria fidanzata. Tre i colpi sparati, uno lo hanno raggiunto all'addome. Il ragazzo è in ospedale. A fare fuoco è Salvatore Noviziano, di 25 anni, anche lui con numerosi precedenti penali. Gli investigatori lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza dei negozi della zona e lo hanno arrestato nella sua abitazione. Nessuna testimonianza, nonostante la zona teatro del tentato omicidio, fosse piena di gente. Proprio in quel momento era in corso la festa dell'abbondanza e in quel luogo erano presenti numerosi avventori. In commissariato, alla presenza del suo avvocato, Noviziano ha ammesso di aver agito per vendicare l'offesa subita da Marino che, davanti alla gente, il giorno prima e nello stesso identico luogo della sparatoria, lo avrebbe preso a pugni e schiaffi al culmine di un diverbio. L'arma non è stata ancora rinvenuta. Il pubblico ministero di turno ha convalidato l'arresto presso il carcere di Contrada Balate. Alle indagini Lampo ha partecipato anche personale della squadra mobile di Caltanissetta. Ma, come dicevamo e come sostiene la polizia, lo scenario criminoso potrebbe essere completamente diverso.